Una strada nel mare, il tema che lega le iniziative religiose e culturali proposte alla città per celebrare il 550esimo anniversario del miracolo dell'attraversamento dello stretto di Messina, evento prodigioso compiuto da San Francesco di Paola secondo tradizione nel lontano 1464. Il cartellone di eventi predisposti dal Comitato Cittadino Miracolo dello Stretto è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Laudamo, alla quale hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Primo appuntamento venerdì 7 febbraio, apertura dell'anno giubilare, inizio dei 13 venerdì. A Messina arriverà la reliquia del bastone di San Francesco di Paola, accoglienza in piazza Castronova alle 17.15. Alle 18, nella parrocchia Santa Maria dell'Arco, l'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana, che per l'occasione ha composto un messaggio rivolto alla comunità diocesana, presiderà la celebrazione eucaristica. La reliquia rimarrà a Messina dal 7 al 9 febbraio, previsti incontri di preghiera, di riflessione e culturali. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Maurizio Puglisi, presidente dell'Enteteatro Vittorio Emanuele, il presidente del Comitato Miracolo dello Stretto Don Gaetano Clemente, Monsignor Letterio Gulletta, che ha spiegato il significato di una strada nel mare, con un particolare riferimento all'obiettivo di attuazione e il messaggio di San Francesco di Paola e il senso del prodigio che lega le città dello stretto al Santo, un ponte che unisce la Sicilia e la Calabria e padre Saverio Cento, rappresentante dell'Ordine dei Minimi, provincia monastica di Santa Maria della Stella, che invece ha sottolineato l'importanza delle iniziative che intendono approfondire e rilanciare la figura del Santo Protettore, principale in perpetuo della regione Sicilia. Il programma vanta la collaborazione di importanti enti cittadini ed ha già ottenuto il patrocinio della provincia, del Comune e dell'Università. All'incontro con la stampa hanno partecipato quanti stanno offrendo la propria collaborazione per la riuscita degli eventi.